Adesso rimane l'ultimo miglio da fare, ma siamo convinti di riuscire a farlo rapidamente. Ultimo miglio da percorrere verso il traguardo, ovvero la ripresa del cantiere e delle paratie sul Lungolago. Oggi nuovo aggiornamento fra il sindaco di Como Mario Lucini e il governatore Lombardo. Una riunione a porte chiuse in Camera di Commercio, a margine dell'incontro sul progetto regionale degli angeli anti-burocrazia, per fare il punto alla luce degli ultimi sviluppi come le modifiche richieste dalla soprintendenza in conferenza dei servizi che verranno inviate entro 15 giorni e il via libera che si attende dall'autorità nazionale anticorruzione. Ci sono tutta una serie di passi da fare, lo stiamo facendo, sono in contatto diretto con il dottor Cantone per risolvere la questione nel più breve tempo possibile. L'importante è partire, è importante risolvere le questioni perché ogni giorno ce n'è una nuova però siamo determinati a risolverle. Abbiamo risolto tutte le criticità riguardo al finanziamento, alla copertura finanziaria, riguardo alle procedure, riguardo ai contenziosi. Il diavolo sta nei dettagli, come si dice, però siamo ottimisti. Mancano solo gli ultimi passi verso il traguardo dunque, anche se ancora non si sa quando potrà essere tagliato, ovvero quando potranno ripartire i lavori sul Lungolago. Preferisco aspettare che si siano chiuse queste partite, che la soprintendenza dica che è tutto a posto, noi anche su questo siamo fiduciosi, dopodiché si tratterà di sedersi con l'impresa con la quale ci siamo sentiti ripetutamente in queste settimane per la sottoscrizione del contratto. Mentre a Combo si seguono con attenzione gli sviluppi dell'eterno cantiere delle Paratie e sulla sponda occidentale dell'Ario ci si interroga sul futuro della variante della Tremezzina, inserita dal governo nello sblocca Italia e in parte finanziata, purché il cantiere parta ad agosto. Se non c'è la proroga, l'ho già detto, è impossibile tecnicamente rispettare i tempi e quindi non si potrà fare. Se invece nel mille per oro che va la nostra proposta di rinviare o di considerare non l'approvazione del progetto, non l'apertura del cantiere, se ci sono i tempi tecnici allora sì, noi le risorse le troviamo, nonostante i tagli che sono tanti.